Piacerebbe giocare ai casino online senza spendere un euro? Certo, sicuro. Con i bonus senza deposito si può fare. Ciao youtubisti, è James che vi parla da casinoitaliani.it Cosa sono quindi questi famigerati bonus senza deposito? Beh, molto semplicemente, sono delle offerte promozionali che i casino online mettono a disposizione degli utenti per dar loro determinati premi senza alcun bisogno di versare del denaro per attivarli. Un c***o di niente. È un po' come ricevere dei soldi gratis o dei giri gratis direttamente sul proprio conto senza fare una ricarica. Il che ti permette di esplorare e conoscere meglio i vari giochi del catalogo di un casino senza mettere a rischio i tuoi fondi. Si tratta di offerte che puoi trovare normalmente nei casino legali regolamentati da ADM. Ma prima di iniziare a utilizzarli bisogna considerare alcune cosette. Come ben sappiamo non esistono soldi facili in questo mondo. Ma è sicco e non aggiungo altro. Ma di questo ne parliamo tra un attimo. Esistono due tipi di bonus senza deposito. Il fan bonus e il free spin o giri gratis. Il fan bonus o semplicemente bonus non è altro che una somma di denaro gratis di solito dai 5, 10 e 20 euro da poter utilizzare su una categoria di gioco del casino online. Per esempio solo su The Slot o solo sul casino live e così via. Un'offerta in giri gratuita invece include ovviamente un pacchetto di free spin con cui potete giocare a determinate slot machine. L'abbiamo già detto il vantaggio principale dei bonus senza deposito è che danno ai giocatori l'opportunità di esplorare il casino, provare diversi giochi e magari persino vincere qualcosa senza aprire il portafoglio. Sono colpito. Molto bello. Si potrebbe dire che è una sorta di antipasto dell'esperienza sul sito prima di impegnarsi giocando con denaro vero. Ma tornando al fatto che nessuno regala soldi mi raccomando leggete bene le condizioni di utilizzo poiché i bonus sono accompagnati da dei requisiti di puntata. Alcune volte viene applicato anche un tetto massimo sulle vincite oppure c'è una selezione di giochi illimitata per cui il bonus è valido o più semplicemente a volte non si è nemmeno idoni per qualificarsi l'offerta per altre ragioni. Occhio perché in Italia la legge dice che è possibile prelevare i bonus solamente dopo aver giocato la somma ricevuta per almeno una volta. Quindi potete aspettarvi sicuramente un requisito minimo di uno per. Prima di prendere una decisione quindi assicurati di leggere bene tutto quanto e di capire quali sono le regole associate ai bonus. Condividi con noi la tua esperienza nelle sezioni commenti qui in basso se hai già avuto modo di provare dei bonus senza deposito. Un saluto da James, un grosso in bocca al lupo per le tue giocate. Ricorda sempre, gioca in modo responsabile. Grazie.